Si è tenuto al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara l'evento di lancio della campagna di comunicazione itinerante per filo e per segno, promossa dalle regioni Abruzzo per far conoscere le misure finora adottate nell'ambito della programmazione POR FSA 2014-2020. Il titolo per filo e per segno prende spunto dal filo che gli bianchini di un tempo, quando l'amore per il benfare era parte integrante del fare, tenevano teso sulla perete per creare una linea dritta che andava ricalcata con attenzione. Al di là di questo il modo di dire si inserisce nel linguaggio convenzionale per rimandare a concetti di lavori fatti con precisione, meticolosità, attenzione e tenacia. Questo vuole essere la campagna di informazione itinerante sul territorio, due settimane dedicate al Fondo Sociale Europeo in diverse città abruzzesi per parlare di pari opportunità, lavoro, politiche della formazione e dell'istruzione e creare un filo diretto con i cittadini abruzzesi per dare risposte alle loro esigenze. Il tour regionale per raccontare il Fondo Sociale Europeo parte nel momento in cui la programmazione relativa al Fondo stesso sta entrando nel vivo con alcuni importanti avvisi appena usciti, ha detto l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco, come quello sugli incentivi e le imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati e con novità importanti in arrivo nel campo della formazione e dell'istruzione. Per filo e per segno si è aperta con una novità assoluta per territorio, un workshop dedicato ai giornalisti nel corso del quale si è cercato di capire con gli operatori dell'informazione come interpretare le varie sfaccettature e semplificare i tecnicismi della comunicazione dei fondi strutturali europei per comunicarli in maniera più efficace. Dopo il workshop, l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco ha aperto l'evento di lancio della campagna nel corso del quale sono stati proiettati video sulle esperienze di successo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e si sono susseguiti i contributi di Antonella Tollis e Sante Iavarone del Servizio Stampa Regione Abruzzo. Assessore, Fondo Sociale Europeo, condividere i risultati raggiunti, costruire insieme i progetti futuri, se ne discuterà oggi ci saranno poi anche altri incontri e c'è un titolo che ha ideato lei e che la dice lunga, Per filo e per segno, perché? Sì, per filo e per segno perché racconteremo sui territori, andando quindi sui territori, per filo e per segno tutte le attività che abbiamo fatto per la Regione Abruzzo usando il Fondo Sociale Europeo. L'Europa e l'Abruzzo e la Regione Abruzzo, grazie a questo fondo, sono riuscite in questi anni a dare delle risposte concrete ai bisogni dei cittadini e soprattutto ai bisogni dei cittadini più fragili. Siamo riusciti attraverso l'avvicinamento al mondo del lavoro con gli strumenti propri, tirocini, borse lavoro e formazione, siamo riusciti ad avvicinare la fragilità all'autodeterminazione, quindi all'autonomia attraverso appunto il lavoro. E quindi abbiamo aiutato persone povere che lo sono da generazioni o che lo sono diventate per perdita di lavoro, anche per separazioni o perché vengono da altri paesi. Abbiamo aiutato le donne vittime di violenza che attraverso il lavoro riescono davvero ad uscire dal nucleo violento. Abbiamo aiutato persone che in un momento storico della loro vita hanno avuto dei problemi, quindi ex tossicodipendenti o chi esce dal carcere. Abbiamo aiutato i migrati e soprattutto abbiamo aiutato i disabili che prima in Abruzzo, prima che io diventassi assessore, non potevano fare tirocini perché proprio non c'era una legge ad hoc. Quindi tutte queste persone che sono escluse molto spesso dalla società hanno avuto un'occasione. E quindi questa mattina racconteremo appunto per filo e per segno quali sono state queste occasioni. Abbiamo aiutato anche le mamme a far sì che potesse coincidere il loro momento per stare al lavoro con il loro momento di stare a casa. Poi abbiamo aiutato anche i giovani a poter avere una marcia in più, sia tramite la formazione, per esempio tramite il finanziamento degli ITS, che sono questi istituti tecnici superiori in stretta connessione con le imprese che riescono a dare lavoro proprio perché fanno una formazione altamente specifica proprio vicina alle imprese, fatta anche insieme, ripeto, alle imprese. E poi siamo riusciti a dare delle risposte importanti anche a chi finisce il proprio percorso di lavoro, di studio con una laurea e quindi ha bisogno anche di formazione post lauream tramite i voucher formativi. Insomma, l'Europa e l'Abruzzo sono più vicini, più di quanto si possa credere. Grazie a questo fondo, ripeto, il mio lavoro è molto agevolato. Abbiamo fatto anche una scelta che è stata rivoluzionaria rispetto a quello che succedeva fino adesso, cioè abbiamo destinato la maggior parte di questo fondo agli ambiti sociali, quindi ai comuni. Per la prima volta, e questa è stata una scelta ben precisa dell'assessore, non abbiamo scelto i privati, che sono comunque importanti, ma abbiamo scelto i territori, abbiamo scelto i comuni come interlocutore principale, perché sono proprio i comuni, non solo i responsabili del benessere dei propri cittadini, ma sono quelli che conoscono di più la propria cittadinanza, i propri cittadini. E poi l'ultima cosa, tra questi bandi ce n'è uno che è stato anche sulle cronache nazionali, perché siamo stati la prima regione a mettere in atto una legge nazionale che non ancora si approva, e cioè il bando per il caregiver. Grazie appunto a questo avviso, l'avviso si chiamava tempi di lavoro e tempi di cura, conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di cura, abbiamo fatto sì che ci fosse una formazione gratuita per tutte le persone, molto spesso sono i familiari, che rimangono per anni accanto dei propri congiunti malati e che poi si ritrovano all'improvviso, proprio perché hanno, come dire, a volte non è una scelta, molto spesso non è una scelta, comunque sono stati vicini, per una scelta d'amore sì, sono stati vicini ai loro congiunti, hanno perso l'opportunità di lavoro e anche di formazione, e quindi abbiamo, insomma, daremo tramite i comuni, ci sarà una formazione proprio ad hoc per queste persone e daremo la qualifica proprio di assistente domiciliare, qualifica che potranno spendersi sul mondo del lavoro perché in Abruzzo c'è molto bisogno di assistenti familiari perché siamo una regione che invecchia e che quindi comunque ha bisogno di persone che siano capaci e che siano formate vicino ai nostri anziani. Il futuro, i prossimi bandi? I prossimi bandi riguarderanno, ce n'è uno che riguarderà la violenza sulle donne perché c'è una rete che funziona in Abruzzo, una rete che è finanziata anche dalla regione Abruzzo oltre che dal Ministero, una rete fatta da sportelli, da centri antiviolenze e da case rifugio, ma una rete più ampia, fatta anche dalle forze dell'ordine, anche dai medici dell'ASL, dei distretti, dai medici di base, in realtà la rete è fatta da ciascuno di noi. Questo avviso è un avviso molto importante perché è un avviso di 800 mila euro che consentirà a questa rete di poter fare prevenzione, quindi di poter andare nelle scuole, ma non solo, anche fare attività di informazione oltre la scuola, attraverso gli strumenti della comunicazione per poter raccontare che c'è una rete, per poter dire che cosa bisogna fare quando c'è qualche dubbio su qualche nostro caro, nostro vicino. Un altro bando sarà anche qui dedicato ai ragazzi che non studiano e non lavorano e che hanno invece l'età, proprio sono molto giovani. La disoccupazione giovanile è molto forte in tutta Italia e anche nella nostra regione. Tramite questo bando che si chiamerà Agora, Spazio Include, riusciremo a dare una formazione chiave in mano, la chiamo così, perché sarà una formazione che darà competenze molto tecniche. Il pizzaiolo saprà fare la pizza, ma non solo, darà competenze di tipo manageriali, quindi una formazione chiave in mano che darà la possibilità anche subito di potersi mettere alla prova proprio nei luoghi adatti. Il mio percorso formativo è durato tre anni e insieme alla teoria abbiamo fatto dei percorsi di stage dove abbiamo unito la teoria e la pratica. Subito dopo il diploma sono stata contattata da Annette Parrucchieri e ho iniziato a lavorare con loro. Dopo la qualifica sono stato assunto dall'autofficina Carpoint dove avevo già fatto un tirocinio. Ciao a tutti, mi chiamo Iure Di Silverio, ho 25 anni ed ho frequentato la scuola Sarti nel 2010 all'età di 18 anni. Oggi vi sto parlando da Pechino in Cina dove sono il primo sarto del negozio Brioni di Pechino. Noi venerdì scorso siamo stati a Milano di una riunione di tutte le regioni italiane che hanno impegni col fondo strutturale e la Commissione Europea direttamente tramite una società parigina ci ha praticamente detto di segnalare progetti popolari, cioè progetti fatti con fondi strutturali che abbiano incidenza sull'attività quotidiana e che siano oggettivamente visibili dalla città, dal cittadino. Ci hanno indicato anche il target di popolazione che è quello medio, le aree urbane medie, tipo ad esempio l'area di Pescara che sarebbe l'optimo, Pescara Chieti, sui 200-300 mila abitanti. Qual è la strategia? In pochissime parole. Loro hanno visto che il concetto Europa funziona benissimo nelle grandi città, nelle capitali europee. L'abbiamo visto con Brexit ma l'abbiamo visto anche con tante altre città. Quello che invece non riesce a entrare nel concetto Europa, perché naturalmente lo vede meno lontano, è tra virgolette la periferia. Allora praticamente si fa una campagna di comunicazione sull'area medio-alta. Questo per far capire quanto si attenta l'Unione Europea su questo e quanto lentamente si stia sburocratizzando anche non solo l'idea ma anche il linguaggio. Io penso che in questo momento si sta giocando una partita importante in termini di credibilità e in termini soprattutto di rapporto tra cittadino e Unione Europea. Quali sono gli strumenti che avete deciso di utilizzare per rendere diciamo più fruibile all'esterno soprattutto agli utenti e non solo ai giornalisti e colleghi le iniziative che avete intrapreso grazie all'Europa? Ma diciamo che il mezzo che disintermedia, il mezzo per eccellenza è sicuramente il web e quindi tutti gli strumenti che navigano su queste piattaforme tecnologiche sono in questo caso i nostri preferiti. Noi ci siamo specializzati per esempio con l'utilizzo di Facebook e peraltro siamo anche come regione all'interno di un'associazione che è quella di Pasocial è un'associazione nazionale che spinge appunto le pubbliche amministrazioni ad utilizzare questi nuovi strumenti che consentono evidentemente ai cittadini un approccio più diretto e soprattutto anche selezionato delle notizie che vogliono leggere e dunque noi attraverso questo strumento abbiamo dato luogo a diverse iniziative giornalistiche, abbiamo diversi prodotti giornalistici che sono appunto rivolti e direzionati ad un pubblico specialistico o quantomeno che rientra all'interno di quella fattispecie alla quale i bandi europei si rivolgono perché ovviamente stiamo parlando di questo cioè stiamo parlando della possibilità di accedere ai fondi dell'Unione Europea. Ecco ti chiedo concretamente a un telespettatore, a un'azienda che voglia saperne di più cosa deve fare per poter ottenere informazioni su questi bandi europei e su come accedervi? Ma diciamo che esistono più livelli perché c'è il livello dell'impresa che evidentemente ha propri interlocutori all'interno dell'associazione. Per quanto riguarda invece altra tipologia di bandi che riguardano magari i cittadini in difficoltà, per esempio le donne o le famiglie che hanno all'interno degli svantaggi eccetera, sicuramente qui bisogna stare con gli occhi aperti ed è qui che in qualche modo entriamo noi ed è qui che dovrebbe entrare anche il giornalismo generalista. Insomma come sfruttare le opportunità che dà l'Europa nella campagna itinerante per filo e per segno. Già due workshop si sono svolti ad Atria, Rurabilandia per parlare di disabilità oltre le barriere e i limiti che diventano forza. A Sulmone il 30 novembre scorso al Teatro Comunale Maria Caniglia, pari opportunità, sostegno, strumenti e risorse. I prossimi appuntamenti, giovani, costruire oggi il futuro delle nuove generazioni. Pescara 6 dicembre ore 10 e mezzo a Auditorium Petruzzi, lavoro, creare opportunità con il Fondo Sociale Europeo sempre a Pescara il 7 dicembre alle 10 e mezzo nella sede di Via Lebovio della regione Abruzzo. All'Aquila il 10 dicembre alle 10 e 30 a Palazzo Silone alla presenza del presidente vicario della regione Giovanni Lolli. L'11 dicembre ultimo appuntamento per il momento all'Oreto Aprutino, sociale, inclusione, l'importanza di fare rete alla Casa di Riposo a Cerbo De Pasquale.